Ben tornati, venerdì 21 dicembre ci avviciniamo sempre di più a Natale e per questa ragione incominciamo subito costruendo un set pesante di una ripetizione di front squat A seguire il WOD, 8 minuti unwrap, 3 hang squat clean, 3 toss to bar, 6 hang squat clean, 6 toss to bar, 9 hang squat clean, 9 toss to bar Carichi e scalature come sempre sulla grafica qui di fianco La settimana si chiude qui, ci vediamo lunedì per un'altra settimana, quella di Natale su Ciper TV Ciao